www.fax.it Inplast, il tuo nuovo partner nell'imballaggio industriale con packaging standard e personalizzato. Inplast, soluzioni per la casa, feste, eventi e tante idee a regalo. Inplast, Arsignano, Vicenza. Buonasera, bentornati a Rigorosamente Calcio. Ciao Emma. Buonasera Andrea, vi ritrovato a te e ben ritrovati a voi tifosi da casa. Oggi puntata l'indomani di una partita che... Andrea, che dici? Eh, abbiamo ancora qua la rabbia e... Eh sì, veramente gli improperi che sono partiti. Esattamente. Ci siamo portati anche un parroco che ci darà una mano ad espiare le nostre colpe. Esatto, poi chiediamo anche lui. Sicuramente abbiamo imparato che da breve Vicentini non possiamo dire gatto finché non ce l'abbiamo nel sacco. Però ieri sera davvero che arrabbiatura, che arrabbiatura con questo 2 a 2 e poi il putiferio che hanno scatenato le parole del patron Renzo Rosso, riprese da tanti e interpretate in vario modo. Cercheremo di dare anche interpretazione autentica del tutto. Allora, andiamo a presentare i nostri ospiti, Emma. Certo, partiamo dal primo bianco-rosso, anche stasera con noi ospite, Daniele Fortunato, centrocampista che darà il suo parere. Ciao Daniele, grazie di essere tornato con noi. Bentornato a Matteo Celebron, stasera è qui tifoso, già vice sindaco di Vicenza. Buonasera, Celebron. Grazie a voi dell'invito, buonasera, grazie. Qualcosa da ispiare anche lei dopo il gol del 9 a 2 a 2? No, no, io richiamo sempre la Madonna di Monteberico, però possiamo adattarci, insomma, di necessità a virtù. Da un centrocampista a un altro? A un altro, esattamente, abbiamo con noi stasera Federico Proia, che vedremo un po' cosa ci racconterà della partita di ieri. Buonasera. Buonasera, Proia. Grazie di essere con noi e, appunto, abbiamo Don Federico Fabris. Buonasera, Don Federico. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Bentrovati. Cosa ci siamo scritti stamattina, noi? C'era l'ipotesi che fosse un luogo di confessione stasera comunitaria, adesso vediamo un po' cosa riusciremo a fare e a dire. Va bene. Chiediamo a Giancarlo Tamiotto se ha bisogno di entrare in confessionale dopo il gol del Novara. Buonasera a tutti. Sì, sì, assolutamente, sia dopo il gol del Novara, ma anche dopo il primo, perché il primo chiaramente a livello emotivo impatta molto di più l'ultimo perché ti giochi la partita, ma il primo dopo mezz'ora in cui il Vicenza aveva giocato esclusivamente nel metà campo del Novara. Prendi un gol così, in un'azione, un gol evitabile. Adesso ce li analizziamo tutti gli episodi della partita. Per rispondere alla tua domanda ho vari motivi per entrare anch'io in confessionale, poi magari con Don Federico vediamo di organizzare qualcosa. Con somma calma. Adesso ce li analizziamo gli episodi perché dal punto di vista tecnico va anche un po' capito cosa è successo e anche dal punto di vista mentale, temo, per cui il gol al 97esimo e in questo Federico Proia ci aiuterà. Andiamo a vedere la nostra clip? Assolutamente sì. Vediamo. Cabertacchi, una piccola realtà tra le colline di Fara Vicentino, allevamento maiali a chilometro zero e produzione di salumi nel rispetto della tradizione contadina. Soppresse, salami, pancette, dama bianca, osso collo, cotechini, salsicce e dal mercoledì anche carni fresche. Nel nostro punto vendita troverete anche una pregiata selezione di prodotti veneti per i vostri regali di Natale, come la shopper bag con sopressa, formaggio, birra artigianale, ciardiniera, taralli, farina, zabaione, biscotti, salsa alle ciliegie. Cabertacchi, la tradizione che fa Natale. Ci siamo detti tutto quello che si poteva dire, adesso dobbiamo andare a fare la prestazione giusta, seria, per cercare di vincere sempre le partite. Noi non possiamo fare altro che questo perché la nostra classifica ci chiede questo. Noi non possiamo fare altro che ci chiede questo. Noi non possiamo fare altro che ci chiede questo. Noi non possiamo fare altro che ci chiede questo. Grazie a tutti. Attenzione, e adesso cosa deve fare la società? Le opzioni sono due, rivoluzione nel mercato per fare l'impresa o con questa squadra verso i play-off, un po' ottimistico? Tutto molto semplificato, ovviamente rivoluzione nel mercato, cioè investire massicciamente perché si spera ancora di centrare l'obiettivo importante o ormai c'è questa squadra, ci sono questi giocatori che devono essere responsabilizzati per provare per la porta di servizio ad arrivare in Serie B. Quindi rispondeteci. falli tattici a ripetizione e non farli più giocare? Sì, l'abbiamo analizzata questa mattina, avevamo tutti l'umore un po' giù perché era una partita che eravamo riusciti a ribaltare con forza, era un risultato che volevamo e poi ci è mancato, sì, secondo me, attenzione, cattiveria, mentalità per portare a casa una vittoria che per noi sarebbe stata fondamentale. Avete scaricato troppa adrenalina nei festeggiamenti del 2-1? Probabile, ma comunque sì, ci siamo assentati in questo momento, purtroppo non possiamo permetterci neanche un minuto, neanche 30 secondi. Quindi lo sappiamo, oggi abbiamo avuto ieri, purtroppo abbiamo avuto un'ulteriore prova del momento che stiamo vivendo. Lavoriamo tutti i giorni per levarli questi momenti, per crescere ulteriormente e per toglierci un po' di soddisfazioni, però conosciamo solo la strada del lavoro e del migliorare quelle che sono purtroppo i punti persi e le occasioni perse. Distrarci neanche un secondo perché puntualmente veniamo puniti, anche questo è un bel problema. Sì, è un problema che anche a noi fa star male, siamo lì che dobbiamo mettere evidentemente tutti un 10% in più per arrivare alla perfezione, perché in questo momento ci serve la perfezione per raggiungere i risultati. Lele, fortunato, poi li andiamo a vedere, ripeto per l'ennesima volta, gli episodi che li voglio capire bene, però questo aspetto qui, il 2-1, quel pallone lì non doveva neanche più essere giocabile, cioè con la testa bisognava solo congelare tutto. Ormai siamo memorizzati sul gol preso, che è la cosa che ci ha fatto più male, però pensiamo che per 80 minuti siamo stati sotto noi, quindi la partita è quella. 80 minuti sotto, però in qualche modo l'hai portata dalla tua parte. Sì, però sono sempre stati il miracolo, l'averla rimontata. Però ieri volevo il miracolo, l'ho dato. No, 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 va bene. Mi andava bene andare a guadagnare due punti. Io ero contento anche quando abbiamo vinto Orzignano, una partita così, fai gol così, va benissimo. Il problema è che noi, come abbiamo fatto 20 minuti, secondo me, è molto bello, molto intensi, abbiamo dato pressione agli avversari, in avversari che, insomma, televisivamente parlando, non ci ha mai impenserito il livello di gioco. Poi, come siamo calati un po', giustamente, c'è un attimo di pausa e poi si può riprendere. Come caliamo un po', noi prendiamo gol. E prendiamo gol, dopo ce lo portiamo dietro, non troviamo mai le soluzioni poi per rimediare. Calcola, come ripeto, l'ottantesimo. Noi perdevamo 1-0, abbiamo fatto una squadra ultima in classifica. Non è facile vincere con nessuno, però noi dobbiamo vedere gli errori che abbiamo fatto anche sui studio gol, perché non sembra che siamo stati sfortunati. No, sono due gol pesanti su errori nostri e questo ci pesa tanto e sono punti importanti. Andiamo a vederli due gol. Andiamo con il primo segnato dal Novara dopo un inizio veramente importante del Vicenza. Federico Proia avvicinò il gol in due occasioni, un colpo di tacco bellissimo e la parata del portiere e poi quell'incursione. Federico, hai rubato palla, sei andato dritto per dritto e lì non hai trovato il bersaglio grosso, ma è l'azione qui. Sì, ho rubato palla, poi ribalzo un po' del campo e me l'ha portata verso l'esterno, quindi per raffrettare il tiro poi non sono riuscito a centrare la porta. Giancarlo, però qui, a difesa? Sì, assolutamente, c'è grande rimpianto su questo gol. Vabbè, innanzitutto c'era l'incursione offensiva di Laezza, che poi è caduto, non c'è stato fallo. Ed è rimasto là però. È rimasto là, esatto. Non so, era in condizione di rialzarsi? Probabilmente no, perché altrimenti si sarebbe rialzato. Però poi, chiaro, ti mancava l'uomo e quindi Decault, tra l'altro, aveva anche questa congestione, quindi non ha potuto scalare bene. C'è stato una serie di problemi, ma al netto di tutto questo è un gol che non devi mai prendere. Prima di tutto, secondo me, devi bloccare l'incursione in fascia. E poi, comunque, in centro serviva più attenzione da parte di chi era rimasto. Credo fosse Talarico su quel lato, se avesse accorciato un pochino di più. Però sì, chiaro, gli mancavano due riferimenti, o meglio uno e mezzo. Gli mancava Laezza, rimasto a terra, e Decault non era il meglio. Però accorcia... Allora, prima di tutto, devi chiudere l'uomo, non devi lasciarlo corsare. Uno. Due, in centro, accorcia... Maglie larghissime. Sì, accorcia meglio, in centro. Allora, se guardate l'azione, inizia l'azione con la punizione di Ronaldo, che dà la palla sull'esterno. I nostri tre centrocampisti sono tutti e tre decentrati a destra. Proia, che va incontro, Ronaldo che fa il movimento di andare, e Gimenez, tutti i decentrati là. Palla Laezza, Laezza continua a inserirsi, non so... Vabbè, perdiamo palla, per me non è fallo, assolutamente. Riprendiamo palla. Gimenez e Ronaldo riescono a recuperare sui due centrocampisti, però non hanno dentro caratteristiche di cattiviere andare a prendere la palla. Non perché non vogliono, perché non... Non è nella loro caratteristica. Basta il movimento di un centrocampista, come succede tante volte, si butta dentro il centrocampista, nessuno dei due centrocampisti lo segue, è costretto a uscire l'altro centrale e l'altro centrale si trova in mezzo a due e non sa cosa fare. Quindi sono stati una marea di errori che hanno portato a questo gol. Tanti errori, secondo me, nella stessa azione. Era però la mezz'ora, quindi la partita poteva essere, doveva essere e alla fine, a prova dei fatti, a un certo punto è stata rimessa in piedi con tanta fatica, perché il pallone non voleva entrare, le occasioni ci sono state, ma siamo arrivati comunque a pareggiarla all'ottantesimo con un ritrovato Loco Ferrari. Vediamolo il gol, perché è molto bello. Matteo Celebron, questo è il Loco che i tifosi biancorossi stavano aspettando da tante partite. Sì, speriamo di recuperarlo, perché veramente... Sia su questo cross, ma anche sul gol dell'1-1. Veramente determinante, un giocatore che ha già dimostrato effettivamente a Vicenza che la categoria se la merita tutta quanta. Questo è un colpo di testa veramente molto bello e non è neanche facile da fare, perché il cross arriva da distante e comunque la mette sull'angolo opposto. E quindi speriamo di recuperarlo, perché diventa assolutamente fondamentale. Guardando i gol, effettivamente Vicenza quest'anno non ne ha presi tantissimi. Se guardiamo il tabellino della classifica, effettivamente però dobbiamo riuscire a farne un po' di più, perché le squadre che ci sono davanti segnano molto di più e questo probabilmente permette a loro di avere qualche punto di più in classifica. Quindi recuperare anche i gol di Ferrari diventa sicuramente fondamentale. Don Federico, adesso vediamo anche il secondo gol del Vicenza, quello del vantaggio, a quel punto insperato, perché davvero era l'ultimo respiro e lo segna Costa, ma lo costruisce di nuovo Ferrari. Questo è il locco davvero che ci serve? Ha fatto quello che lui non dovrebbe fare, ma l'ha fatto talmente bene che ci ha, direi, follemente stupiti. Ecco, perché appunto ha fatto sto cross molto e molto bello. Per fortuna Costa, che non è neanche altissimo, è andato diretto su questo pallone e ci aveva fatto sognare abbondantemente bene. Forse appunto abbiamo sognato talmente tanto che ci siamo dimenticati che c'era ancora qualche altro secondo, dannatissimo secondo, da affrontare e da giocare. Giancarlo, tra l'altro qua forse c'era anche un rigore, oltretutto, se non c'era il gol. Sarebbe, intanto volevo dire che l'inserimento di Costa è tutt'altro che casuale, perché lo vedi spesso in quella mattonella lì. Mi ricordo quella volta che Greco gli ha quasi portato via un gol, quindi è abbastanza frequente vedere Costa che si inserisce e punge, quindi va benissimo. Poteva esserci il fallo, è arrivato il gol, va bene così. Insomma, arbitraggio discutibile sotto vari punti di vista. Poi ne parliamo dell'arbitraggio perché sul gol del Novara, ragazzi... Però sì, ecco, però io non vorrei, secondo me, attaccarsi all'arbitraggio, vuol dire non crescere mai. Assolutamente. Allora, prima di arrivare al 2-2 voglio subito andare da Emma perché c'è da capire un po' dove vanno a parare i tifosi. Andrea, un po' di scontento si concentra su Confente, ecco. Come lo vedete? Adesso credo che ci arriveremo giusto appunto in occasione del 2-2. Sono su Confente, intervengono? Ma c'era anche una domanda per Proia. Ci chiedono che fine ha fatto il Proia di inizio campionato, che era stato giudicato il miglior acquisto del Diceo. È cambiato qualcosa? Perché in qualche modo c'è un nuovo acquisto, no? Perché poi sappiamo che questo è stato... Beh, diciamo che in primis tutti stiamo cercando di trovare il nostro meglio. È ovvio che stiamo vivendo tutti un momento non facile, però dobbiamo uscirne fuori per risaltare poi tutte le qualità che ci sono in questa squadra, perché sono consapevole che siamo una squadra forte, lavoriamo ogni giorno forte per cercare di uscire da questa situazione. È ovvio che i risultati e la classifica non rispecchia quello che poi noi crediamo. In questo momento dobbiamo accettarla e dobbiamo far tutti un passo indietro di umiltà e di cattiveria per tutti ritrovare quella serenità e quell'autostima per vincere e creare un'identità che poi da qui alla fine, secondo me, è importante. Non è finito nulla perché anche dopo la sconfitta di ieri, sì c'è rammarico, c'è grande delusione, però ho visto negli occhi nello spoglietoio la voglia comunque di crederci e già da venerdì o da oggi abbiamo iniziato già a preparare la partita, quindi vedo un atteggiamento e una voglia positiva. Federico, a proposito dei passi indietro avrei una domanda. Come è stata accolta la dichiarazione di Rosso negli spogliatoi? Sinceramente oggi eravamo più delusi e concentrati sulla partita più che delle parole del padron, quindi non abbiamo avuto modo di parlarne e ne parleremo dopo. A proposito, Federico Proia, un impiego legato al turnover continuo che c'è a centrocampo anche per lui, nella posizione giusta, Daniele, come ti piacerebbe vederlo questo giocatore? Abbiamo visto l'undicesimo centrocampo su tante partite. È una domanda che volevo fare anch'io perché insomma tante volte ti vedo giocare, io non sto parlando di valori dei giocatori, io parlo proprio di role, a volte se giri per il campo non hai proprio una caratteristica precisa, un ruolo preciso, ti piace girare, ti abbassavi, ti alzavi, andavi a fare la trequartista, ma qual è il tuo ruolo preciso? Io ho sempre fatto la mezzala oltrequartista, quindi è ovvio che in questo momento tutti cerchiamo di fare qualcosa di diverso, perché evidentemente finora non ha pagato, tutti ci mettiamo a disposizione del mister, cerchiamo di trovare soluzioni diverse, perché è ovvio quando la squadra si schiaccia tutta una metà campo loro, essere sempre nella stessa posizione non crea nulla, quindi noi cerchiamo di non dare punti di riferimento, è ovvio che in questo momento magari vengono meno anche le certezze della squadra e del gruppo, quindi fai fatica anche a trovare la quadra giusta. Sì, anche perché noi giocavamo con due registi praticamente, quindi quando ti abbassavi anche a te diventavamo… Sì, io diciamo che prediligo più essere un centrocampista offensivo, quindi essere supporto alle punte e agli attaccanti. Posso proprio fargli l'ultimo proprio velocissimo. Puoi fare tutto tu, Daniele. Ma non c'è Alberto Mantovani. Appunto, quindi approfitta, salutiamo Alberto. E sei partito molto bene durante la partita, eri proprio il più presente, vedevo. Poi pianino pianino, non è che sparisci, pianino pianino non sei più protagonista della partita. Questa è una condizione che ti ho visto anche altre volte. È una condizione che comunque sto lavorando sia mentale che fisica. È ovvio che tutti noi abbiamo dei momenti in cui siamo al top su tutto e in questo momento sto lavorando per arrivare al top. C'è una mezz'ora, poi le partite sono difficili, sono lunghe, sono momenti. In questo momento poi subiamo gol e lo paghiamo. Quindi dobbiamo essere più forti lì, più forti di testa, più forti di personalità. È questo che ci è mancato in questo inizio di campionato. Giocarlo. Sì, anch'io avevo sempre un piacere sentire Daniele con le sue analisi. Avevo un'ulteriore curiosità. Nella fase finale Vicenza ha giocato con una sorta di 4-3-1-2, difesa 4 e della morte dietro Rolfini e Ferrari. Ecco, a me incurioserebbe vederti in questa posizione sulla tre quarti dietro due punte. Come ti vedresti? Io l'ho fatto, è un ruolo che mi piace fare. Quindi se ci sarà la possibilità e se il mister reputerà la reputarità di mettermi lì, lo farò con grande entusiasmo. Io credo che sarebbe nelle tue corde. Anche se guardiamo un po' la partita, quando della morte viene un po' decentrato a destra, mette delle bellissime pale. L'ha fatto su un gol di Sandon in casa, su un rigore in casa. ieri diventa... Quando magari si trova in una squadra che è chiusa non riesce mai a tirar fuori le cose. Quando si decentra un po' a destra, che fa questi cross, è stato decisivo in tante partite, diventa importante perché c'è un bel piede. Allora andiamo a vederlo, questo 2-2. Andiamo a capire un po' come è stato possibile concedere a Novara il pareggio e a quell'uomo che era lì sulla sinistra, che davvero viveva una solitudine che io non ho memoria di aver mai visto nelle partite di questo campionato, insomma, in tempi recenti. Vediamo... Giancarlo, dimmi tu qualcosa. Mamma mia, è un'occasione veramente gettata alle ortiche. Io penso alla classifica, penso con rabbia alla classifica. No, ma restiamo un attimo sull'azione, scusami Giancarlo, voglio capire tecnicamente come abbiamo potuto... Allora, se dalla regia mi fanno vedere proprio l'inizio dell'azione, partiamo proprio dallo status quo iniziale. Ecco, fermiamoci subito, prima che il pallone parta, se è possibile. Ecco Giudi. Prendiamo pure indietro di qualche secondo, andiamo indietro proprio quando il pallone è lì, nel piede del giocatore, l'Ele, cioè quell'uomo lì... Tronchini che esce, cioè non ha senso perché... No, allora, Gerardi si è comportato... In quel momento si giocava a difesa a quattro, noi giocavamo a quattro, no? Guarda, Gerardi ha stretto come se giocasse nella difesa a tre. Alla tre, i tre giocatori vanno a coprire l'ampiezza della porta e il quinto va a difendere, ma noi giocavamo a quattro e Gerardi si è comportato come se giocasse ancora a tre. Se voi vedete i quattro centrali, sono nella linea della... Sì. Sono stretti e basta un inserimento di un centrocampista che noi, come sempre, non riusciamo mai a prenderlo per caratteristiche dei nostri giocatori e fa il cross. Però da quel punto di vista lì ci sono quattro giocatori che marcano e quattro giocatori che sono fuori aria. Al novantasettesimo mi aspettavo un arroccamento un pochino. Ci mettiamoci lì. Invece, guardate, i quattro giocatori sono a marcare e nessuno marca l'esterno. Sì, Nico, io credo che questa mattina o per farmi immagini lì sia rimasto quanto tempo col mister? Abbastanza. Cosa è venuto fuori? Quello che ci puoi raccontare? Quello che ci puoi dire? È ovvio che qui c'è un errore nostro perché comunque andiamo in quattro in pressione in tre e sullo stesso uomo. In aria siete quattro contro quattro al novantasettesimo. Il problema è lasciarlui libero sull'esterno quando eravamo già in copertura sulla palla. Quindi è stato un errore lì ma poi c'è stato un errore dopo. È stata una serie di errori. Quindi dovuto da, sì, evidentemente da troppo entusiasmo abbiamo calato l'intensità, la voglia e la cattiveria di portare a casa una partita che per noi era ossigeno. Frittata numero due una volta che viene fatto il cross. Se posso andare a anticipo un attimino il contenuto di una delle pagelle. Ierardi ha fatto gli ultimi minuti sono stati veramente negativi perché al di là di questo errore di posizionamento ben evidenziato da Daniele poi si è preso anche una munizione molto banale che ha pure indispettito il pubblico di Novara. Sì, quindi dei minuti da dimenticare gli ultimi di Mario Ierardi purtroppo che evidentemente non sta vivendo un momento particolarmente positivo. E poi, sì, anche il prosieguo dell'azione lascia spazio purtroppo a molti altri errori della difesa biancorossa. C'è quello finale di Confente ma non è l'unico perché appunto ci sono tanti biancorossi lì. Mi sarebbe piaciuto vedere Confente cosa vede. Cioè, magari c'è... Probabilmente... Cioè, bisognerebbe vedere cosa vede lui. Allora, apro una parentesi, un secondo, con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai che ringrazio di essere collegato con noi. Buonasera, sindaco. Mi senti, Possamai? Non più. Ho visto muoversi fino adesso. Adesso non c'è. Allora, ci riproviamo fra qualche minuto. Probabilmente anche lui è basito dal comportamento della difesa. Assolutamente, assolutamente. Non riesce a... Mi rendo conto che alla regia sto facendo fare ping-pong chiedo scusa. Torniamo all'azione e all'errore. Anche Emma ci diceva che tanti telespettatori se la stanno prendendo col portiere. Celebron, lei è stato portiere non professionista però insomma, il ruolo lo conosce. Cosa succede qua? Più che su questo gol perché io sono d'accordo con Fortunato qui bisognerebbe capire bene cosa vede se ci sono state deviazioni perché se ti capita una deviazione a un metro è difficile insomma, adesso per carità qui gli errori più che altro sono di carattere difensivo prima sull'uscita che erano in quattro e anche in questo caso perché l'esterno è tutto libero. Per me l'errore di Confente è sul primo gol più che altro paradossalmente. Questo non ci sono responsabilità? Ma è difficile bisogna capire se c'è stata una deviazione perché lì ci sono tre giocatori davanti a lui non è facile comunque deviare un tiro in mezzo alle gambe che passano non è che insomma ha fatto la cosiddetta papera Fermiamoci qui per cortesia quando calcia non è fuorigioco quello lì? Federico pare grande è dietro al portiere Federico non è mica fuorigioco questo? No, non ci attacchiamo a questo però No, è chiaro che è fuorigioco però come si diceva prima No, no, ok però ragazzi c'è un segnalino è lì che deve guardare è solo quello è l'unica cosa che deve fare È chiaro che disturba il portiere perché nel momento in cui il portiere lo sente nella sua parte insomma aurea intima che è quella del braccio è chiaro che lì c'è un giocatore che comunque influenza il portiere Io mi chiedo come si fanno vedere una cosa del genere Per quanto poco con la coda dell'occhio sinistro magari per una frazione di secondo ma con frente lo guarda dietro quindi è comunque un elemento di disturbo dopodiché Capisco il fuorigioco millimetrici per carità i colpi di mano opinabili però qui c'è un uomo che è dietro anche al portiere Andrea, ti confermo che anche da casa l'hanno visto in molti quindi non sei l'unico fuorigioco Certo, immagino che siano anche arrabbiati Anche Guardalina è posizionato che se non riesce a vederlo lui da lì da dov'è? No, perché noi vabbè siamo stati i polli però ragazzi non si può fare un errore del genere Comunque lì c'è una deviazione davanti al portiere adesso per carità ma non lo dico per discolpare perché però una deviazione a un metro al portiere non è così semplice Certo, a velocità normale se adesso la regia ce lo fa vedere a velocità normale gli errori ci sono altri evidentemente ripeto per quello insomma che posso dire io più sul primo gol dove quando il giocatore sul largo mette la palla in mezzo e decolla in maniera inspiegabile va a uscire sull'area lì poteva fare un passo sull'area piccola al portiere di solito lì le palle poteva prenderla o comunque deviarla su questo mi sento insomma comunque di non incolpare al 100% ecco decolla su questa cosa aveva detto Diana che non stava bene difatti poi è stato sostituito ha avuto tipo una congestione con qualche giramento di terza però è inspiegabile però sì in ogni caso chiaro perché comunque è sempre più pericoloso il pallone al centro certo però se vediamo il primo gol sull'area piccola tra l'altro il pallone rientrava verso la porta forse su quella insomma possiamo dare delle colpe però ripeto non è una responsabilità del singolo non possiamo neanche dare tutta la responsabilità al portiere è chiaro che quando il giocatore è lì tu ti sganci dal primo palo e vai più verso il centro non può mai segnare da lì tra l'altro c'è un giocatore che difende sull'area piccola forse insomma questa è più una responsabilità del portiere sul secondo non mi sento di mettere la croce addosso a confenda va bene io vedo il sindaco sempre frizzato in termini tecnico è un fermo immagine quindi il collegamento ha dei problemi ringrazio per la disponibilità possa mai ovviamente se poi c'è nel corso della trasmissione l'occasione proviamo di nuovo il collegamento è a Bruxelles ha interrotto anche un incontro che stava avendo ma avevo piacere di sentirlo perché dopo le parole del patron Renzo Rosso insomma c'è tanta preoccupazione c'è tanta ansia tra i tifosi biancorossi allora volevo la voce del sindaco che intanto è tifoso ma insomma poi rappresenta proprio la città di Vicenza quindi ci provo posso mai mi sente? noi la sentiamo anche peggio proprio una sillaba ho sentito non di più è proprio no complicato vabbè dalla legge se potete ringraziare per la disponibilità ma temo che sia complicato Emma a te per un po' di messaggi eccoci qua allora una domanda a tutti i nostri ospiti ci leggo un po' di messaggi prima? vi leggo un po' di messaggi allora sul giocatore che crossa all'ultimo secondo il nostro giocatore si è girato per non prendere la pallonata un professionista deve affrontare con cattiveria che manca Paolo da Vicenza il Vicenza è una squadra con tanti nomi illustri ma è ancora senza identità senza schemi di gioco soddisfacenti l'impressione è che Diana non incida bravo fortunato mancano centrocampisti che facciano interdizione e il portiere è sempre quello che negli anni scorsi ha fatto spesso la riserva come si fa a pretendere la Serie B? Armando e a proposito di portieri allora da casa in più di qualcuno mi chiede ma come vedrete come vedreste Massolo al posto di confente in porta? allora Giancarlo ecco la testina ha fatto bene Massolo ha salvato il risultato in un paio di occasioni possiamo chiamarli miracoli un paio almeno? oddio i miracoli chiediamo chiedo la dispensa a Don Federico possiamo Federico? interventi molto decisivi ecco diciamo così che ci saliamo in corna facciamo interventi provvidenziali provvidenziali così prendiamo entrambi gli ambiti ok ok quindi è una soluzione o il portiere non vorrei che in questo senso avesse un sapore punitivo e non so se la cosa farebbe bene no fa peggio io penso che il portiere sia uno dei pochi ruoli al quale bisogna dar sicurezza cioè devi farlo giocare a prescindere almeno che non ci sia una situazione proprio critica adesso rispetto con tutto il rispetto insomma non mi sembra che abbia fatto errori così gravi da poter pensare ad una sostituzione a un portiere bisogna dare continuità perché comunque se inizi a far giocare il secondo metti il primo in panchina poi si innescano anche dei meccanismi che non danno sicuramente sicurezza quindi ricordo anche che a inizio campionato mi pare abbia vinto anche il titolo di MVP il miglior giocatore vero Giancarlo che fate voi puntualmente ogni settimana sì sì esatto aveva fatto delle partite importanti quindi poi sempre relativi momenti più di quattro volte ci ha messo una pezza quindi sì ripeto non ci sono le cosiddette papere in questa partita ci sono degli errori collettivi di squadra che hanno portato al 2-2 insomma non penso che possiamo lanciare la croce addosso al confente ripeto con tutti i limiti perché comunque abbiamo visto che quando avevamo preso un portiere di categoria come Contini aveva fatto effettivamente la differenza quindi questa è una riflessione che sicuramente deve fare la società perché abbiamo una squadra di tutto rispetto e chiaramente il portiere non è che lo si vede solo nelle parate anche nella fase difensiva nella tranquillità che dà ai difensori di tutta una serie di valutazioni che sicuramente l'allenatore e il preparatore dei portieri fanno però sostituire il confente in questa fase è il partito che il portiere si può anche cambiare sì si può anche cambiare però non lo vedo non lo vedo responsabile di qualcosa di così grave le prime 10-12 partite il giornale di Vicenza gli ha sempre dato dai 6-7 quindi è sempre stato protagonista in positivo poi capita un momento che magari ti aspetti qualcos'altro avrà dei limiti confente però non lo reputo il responsabile di questa situazione ecco c'è sempre di meglio però c'è sempre c'è anche ci sono anche difensori migliori c'è anche ci sono capiti migliori ci sono anche attaccanti migliori in effetti spesso ha tolto le castagne dal fuoco quindi sì e adesso vabbè la prestazione innovare è stata rivedibile ma ripeto in questo momento secondo me avrebbe il sapore della punizione e ho paura che così finisci per far peggio io credo se avvicinamento ci deve essere perché Massolo comunque mi dà l'idea di essere un buon portiere però deve essere fatto io credo in maniera diversa non a botta in testa dopo che hai cannato mezza partita certo perché ho paura che psicologicamente poi fai un danno allora ci prendiamo una piccola pausa e poi ripartiamo da questa faccenda qui che è alle mie spalle che il Mantova intanto è andato a meno 12 se meno 10 sembrava tantissimo meno 12 diventa davvero un problemone c'è la partita proprio col Mantova però bene che vada a meno 9 e ci sono anche le altre comunque nel frattempo e poi arriviamo a parlare di Renzo Rosso e delle sue parole le andiamo a sentire e poi credo che Emma la tua serata diventerà molto più impegnata penso proprio di sì ma restate con noi ci vediamo fra poco stavamo parlando con Federico Proia delle tue ex squadre il ricordo più bello forse il ricordo più bello a Cittadella le stagioni migliori sì sai che la prossima che avrai dovrai dire Vicenza quindi cerca di fare un risultato tale che ti permetta poi ci la faremo mi piace che ti sei corretto che stavi per dire ci proviamo e poi ti sei corretto ci siamo andati e ce la faremo il sondaggio allora andiamo a vedere come state votando rivoluzione di mercato per provare l'impresa 49% con questa squadra verso i playoff 51 quindi pari sostanzialmente spaccata a metà tu Giancarlo cosa dici cosa vuoi? ma io non farei nessuna rivoluzione perché a livello di uomini io resto convinto che questo sia il miglior organico della serie C ed è anche almeno del girone A ed è anche un organico equilibrato secondo me non gira per altre ragioni perché non ha ancora trovato la quadra però è dicembre lo so evidentemente è una squadra che ha dei limiti mentali evidentemente caratteriali forse anche qualche scelta di Diana è rivedibile ma muoversi massicciamente sul mercato non credo abbia molto senso in questo momento mancano tre partite alla fine del girone d'andata e anche dell'anno poi c'è un mese di pausa che forse servirà per mettere in chiaro tutto Daniele? no il problema è trovare i giocatori importanti cioè a gennaio noi vogliamo se dovremmo cercare qualcuno ma dove li vai a prendere chi te li dà se sono così importanti mi ricordo l'anno scorso si è arrivato il terzino destro aveva la pancia De Maio la punta il polacco cioè Biden al centrocampo sì sono arrivati ma cosa ci hanno dato non ci hanno dato niente no e lì cercavamo c'era la possibilità di spendere soldi ma trovare giocatori così importanti più importanti dei nostri chi te li dà io questo voglio dire quindi bisogna lavorare molto sulla testa sul carattere sulla testa poi magari si può prendere anche un giocatore due ma a gennaio se è così importante dove lo prendi voto di celebrò nel sondaggio? ma sono d'accordo anch'io non penso che il mercato stravolga una rosa che dal punto di vista della qualità tecnica è indubbiamente la più forte della serie C serve forse questa cosa continuiamo a ripetercela sì ma serve lavorare ma è assolutamente vera nel senso che anche davanti chi vai a prendere oltre a quelli che già abbiamo che sono negli ultimi anni sono tra i migliori giocatori capocannonieri bisogna lavorare molto sulla testa sembra una banalità però forse aumentare l'attenzione e anche la tensione perché se prendi quel gol lì all'ultimo vuol dire che manca la tensione giusta nell'allenamento non nella partita adesso non so chiaramente noi siamo qua a parlare di calcio e lo spogliatoio è un'altra cosa però bisogna aumentare la tensione durante la settimana perché se prendi quei gol lì insomma Novara era una squadra che era sicuramente alla nostra portata è una questione di testa evidentemente le qualità tecniche non mancano è una squadra che può tranquillamente fare la serie C Don Federico è così fragile questa squadra dal punto di vista mentale caratteriale emotivo di personalità perché se davvero è una rosa che è la più forte di tutte dovrebbe essere davanti a tutte in classifica no? Allora fragile direi di no forse una cosa che mi viene da dire così è un reciproco incoraggiarsi molto di più di quello che si sta facendo più a parole che nei fatti? Sì cioè se c'è qualche scricchiolio in difesa immediatamente ne risente anche il portiere c'è qualche scricchiolio a centrocampo ne risente un pochettino anche l'attacco ecco quindi direi proprio questo cioè cercare di fare in modo do il do il 100% io per mettere in condizioni l'altro compagno di squadra di fare il 110% sarei più di queste idee qua beh stravolgere la rosa non vedrei non vedrei che senso avrebbe anche perché vorrebbe dire poi arriva un bel filotto di giocatori nuovi per inserirli e quant'altro quanto ci vuole sì se già siamo a dicembre ancora non ecco pensiamo Bellic Bellic l'anno scorso era qui fatto un campionato dignitoso senza infamia né lode però non era un cattivo giocatore no va alla Juve Stabia cinque gol cinque addirittura cinque ed è in testa ieri ha vinto lo scontro diretto col Benevento quindi dici sì non è una questione di materiale umano è una questione della gestione del materiale umano però cambiano gli allenatori due volte all'anno cambia anche il direttore generale cambia il direttore sportivo quindi sì evidente a questo punto secondo me conviene proseguire su questa linea battendo cercando di forgiare di migliorare di far crescere cioè un lungo periodo di gestione dal punto di vista è già anche troppo lungo purtroppo direi ai limiti dell'indisponente da quanto è lungo però credo che se in mezzo alla tempesta cambi direzione ti giri fai ancora peggio se è possibile ancora peggio la vediamo la classifica col Mantua che è andato a più 12 sul Vicenza e il Padova che ha rallentato in questo momento è a 34 quindi Vicenza resta lì a 8 punti dal Padova e c'è la Triestina che è a 33 ma ha una partita in meno davanti c'è anche la Provercelli che continua nella sua fase molto positiva incredibilmente ad appena due punti dal Vicenza c'è pure la Gianna Erminio che abbiamo seppellito di gol ma insomma ricordiamo l'anno scorso che seppellivamo di gol squadre che poi sono andati in serie B quindi vale quel che vale poi la singola partita bisogna fare bene alla distanza se il subute o il pantacalcio e valessero i singoli valori dei giocatori seppellirebbe tutti tranne Triestina Padova e Mantua che sono le altre sono nettamente meno forti del Vicenza ma il problema non è tecnico sì perché se con Mantua con Novara Fiorenzuola Legnago Renato la cosa grave non è essere quarti perché si può essere quarti si può essere terzi essere a 10 punti a 12 punti quello è il problema possiamo arrivare anche quarti se quarti ha 6 punti dalla prima te la sei giocata così diventa difficile al di là dei demeriti del Vicenza questo Mantua che ha 38 punti che sono tantissimi sta facendo una corsa davvero forse è nata per il valore che ha o ha imbroccato tutta una serie di congiunzioni astrali ma non me l'aspettavo io sinceramente nessuno l'aveva messo tra le favolite si diceva Padova si diceva Triestina Vicenza queste tre poi c'era la sorpresa che può essere il Mantua sinceramente non mi aspettavo non conoscendola bene nei particolari in tutti i giocatori mi aspettavo una buona squadra ma non pensavo però io siamo a 6 punti noi perché abbiamo due partite li battiamo in casa e li battiamo a Mantua quindi abbiamo 22 partite per recuperare 6 punti l'ottimismo ci deve essere sempre rallenteranno anche a un certo punto andiamo da patron Renzo Rosso andiamo a sentire cosa ci ha detto ieri mattina precisiamolo queste dichiarazioni sono state fatte prima della partita col Novara quindi io non sono nella testa di Renzo Rosso ma immagino che lui sperasse magari che le cose andassero in un certo modo e si potesse anche cominciare a fare un ragionamento perché poi ovviamente la sconfitta ha colto di sorpresa tutti a ogni modo ieri mattina Renzo Rosso ci ha detto quanto segue io non voglio più restare in questa serie qua piuttosto vado via perché vuol dire che non sono capace la città merita la serie B almeno e quindi stiamo lavorando per questo se poi devo guardare quello che ho fatto che abbiamo fatto come società io penso che di più di quello che abbiamo fatto non si poteva fare è che purtroppo il calcio a volte ha delle succedono delle cose che non sono controllabili per cui speriamo che dopo anche un po' di sfortuna cominci a girare nella direzione giusta anche per noi allora Giancarlo cosa vuol dire se non andiamo in serie B se restiamo in serie C piuttosto vado via sono parole molto importanti quelle dette dal patron e di fatti ci facciamo l'intera pagina di domani sì poi la vediamo allora io penso che sia uno sfogo di pancia però ti fai la domanda e se effettivamente la pensa così se effettivamente dovesse pensare di farsi da parte quale futuro attende il Vicenza e sono domande partiamo proprio dalla base se restiamo in C parliamo di questo campionato evidentemente no? o lui si dà ancora magari un paio di stagioni secondo te? io penso che lui per carattere per orgoglio per desiderio di portare a termine il progetto rimanga però non trascuro nessuna ipotesi neanche quella di un eventuale maggior convocemento dei soci perché no? ce ne sono tanti di importanti magari dici un piccolo passo indietro della famiglia Rosso a favore è un'ipotesi è un'ipotesi indubbiamente Celebronna lei da vice sindaco da membro della precedente amministrazione per 5 anni ha avuto anche contatti con la famiglia Rosso proprio nei 5 anni in cui sono subentrati quindi avete vissuto l'inizio della loro esperienza a Vicenza grandi aspettative la promozione la serie B e poi la grande mazzata della retrocessione quindi insomma ha ben presente un po' le dinamiche certo parliamo chiaramente di una persona che evidentemente è delusa perché nella vita a livello imprenditoriale è riuscita a fare cose che pochi nel mondo sono riusciti a fare quindi parliamo di una personalità evidentemente molto importante che in maniera anche molto umile dice il calcio è diverso non è matematica non è come come l'imprenditore che investe fa il bilancio a fine anno tira una riga e dice 2 più 2 e fa 4 il calcio purtroppo non è così quindi a me è sembrata un'analisi molto lucida quella di Renzo Rosso e anche umile sono d'accordo anch'io penso sia uno sfogo è troppo determinato in questo progetto e bisogna anche dirlo ai tifosi non sono populista da questo punto di vista che di società come questa ce ne sono gran pochi nel panorama professionistico per serietà e per impegno e quindi va assolutamente tutelato e difeso è chiaro che secondo me è uno sfogo io mi auguro che da questo punto di vista la squadra i calciatori si facciano carico di queste parole perché una persona come lui che evidentemente fa questo sfogo chiede qualcosa di più alla squadra non lo chiede ai tifosi anzi dice Vicenza merita molto di più e quindi secondo me questo è uno sfogo che deve motivare la squadra e tutto lo staff a fare molto di più e hanno un'occasione d'oro perché il Menti sarà una bolgia contro il Mantova e c'è l'occasione di rifarsi e di dimostrare che Vicenza è Vicenza e merita effettivamente molto di più anche per dare una risposta al Presidente che evidentemente ha fatto tutto quello che poteva fare non gli si può imputare niente sulla campagna acquisti sugli investimenti sul modello di società che ha messo in campo e penso che è giusto responsabilizzare chi scende in campo è giusto responsabilizzare l'allenatore e quindi questa parte la devono fare loro assolutamente Federico se le avevamo chiesto prima magari adesso ce l'ho argomento un po' di più come le avete incassate queste parole come le avete Sì sono d'accordo con quello che ha detto lui adesso è ovvio che noi dobbiamo alzare il livello soprattutto dopo le parole ma erano parole che già dentro di noi c'erano perché nessuno è contento di questa situazione noi in primis però adesso non abbiamo più il tempo per pensare a quando succederà deve succedere già da venerdì e l'abbiamo detto già in queste settimane che non dobbiamo più cascare in sconfitte e perdere punti in maniera brutta se la mi testa la classifica esatto da quando avete cominciato a dire adesso non dobbiamo più perdere punti non li aveste più persi esatto so che è brutto è la verità continuare a ripeterlo però scendiamo in campo per vincere facciamo fatica davvero a capire come non si riesca poi a imparare anche dagli errori li facciamo tutti per carità io penso se Renzo Rosso si facesse da parte senza che la cosa venga in qualche modo così gestita programmata io penso con orrore al 2018 a quelle aste andate deserte queste sono riflessioni da fare assolutamente assolutamente non c'era una grande fila di imprenditori pronti a prendere Vicenza bisogna anche dirlo ripeto io mi assumo la responsabilità di quello che dico nel senso che magari a qualcuno fa facile c'è una differenza sostanziale allora c'era un fallimento era crollato tutto adesso la potevi comprare a costo quasi che vuole vendere se decide di fare la potevi comprare a costo ridotto credo erda un patrimonio facendolo no non credo però dico ecco teniamo sempre a mente queste cose assolutamente la vediamo la pagina del giornale del giornale di Vicenza in edicola domani Giancarlo avete puntato proprio sulle parole di Renzo Rosso in via quasi esclusiva perché secondo noi è l'argomento del giorno insomma riflettiamo su quello che ha detto appunto con la consapevolezza che si tratta probabilmente di uno sfogo però appunto studiamo la situazione nel dettaglio perché perché appunto la solidità cioè la cosa più importante nel calcio sono le società le squadre vengono di conseguenza e pertanto sì la situazione va vista gestita studiata e capita qui c'è il tuo fondo anche proprio con il coinvolgimento dei soci dei soci esatto vi invito a leggere domani il giornale Giancarlo insomma tira in bagno sì sì è una possibilità certo d'altronde lo stesso Rosso rimarca spesso l'importanza dei soci sì tra l'altro non è neanche la primissima volta che la proprietà Rosso dice guardate che attraverso c'è un disimpegno un mese fa Stefano Rosso ha detto gli episodi violenti sono quella cosa che potrebbero anche farmi smettere col calcio e poi ricordo alla presentazione di Balzaretti ci fu la distinzione i tifosi dello stadio i tifosi social troppo offensivi troppo aggressivi perché tanto si trincerano dietro la famigerata tastiera e a quel punto lì attenti che qualcuno potrebbe anche stancarsi e poi l'anno scorso dopo la partita con la Pro Patria ci fu un altro sfogo del Patron sì che dice rischio l'infarto ogni settimana ma lo capisco il campionato di Lega Pro è un campionato insignificante che non segue nessuno i giornali tipo la Gazzetta durante la settimana fanno A B estero golf saltano addirittura la C l'altro giorno c'erano le partite dei tre gironi in un sesto di paese ho dovuto prendere la lente di ingrandimento perché i caratteri erano ancora più piccoli dei caratteri normali è una C che non interessa a nessuno per questo lo sfogo lo capisco quello di Rosso gli dico di non mollare perché ci devono portare in una categoria e solo lui credo in questo momento abbia questa forza in un campionato di Lega Pro che non interessa a nessuno a nessuno leggi la Gazzetta non c'è la pagina c'è la pagina della Satta la fidanzata di Berrettini una pagina intera che è interessante una bella donna e non c'è e ci sono in città come Padova come Vicenza come Foggia come Pesca è possibile che non si può parlare un attimino Certo ma quando siamo onesti se non ci fosse il Vicenza quanti di noi seguirebbero il campionato di Serie C assolutamente l'Arzegnano per simpatia ok messi leggiamo un po' i messaggi da casa l'allenatore non è stato capace di mettere in fase il motore un meccanico che dopo 16 giornate non riesce a mettere in fase la macchina cosa si fa cambio meccanico signori negli ultimi anni sono stati cambiati giocatori allenatori direttori e proprietà c'è qualcosa che non va nell'ambiente per favore parlatene e poi resisti Renzo chi può portare Vicenza in alto se non rosso e poi giro di pronostici agli ospiti contro il Mantua quindi a voi la parola ah proprio così diretta va bene dai che reazione arriverà col Mantua non Federico in casa le ultime partite insomma vinciamo abbiamo fatto il nostro vinciamo e vinciamo bene da te Federico ti salto arrivo dopo io spero si vinca ripeto lo dico da tifoso ma anche da bambino tutti i bambini che ti fanno Vicenza e sognano di vestire quella maglia e possibilmente di farlo allo stadio Menti questo lo dico per trasferirlo magari a loro che scendono in campo che vorrebbero giocare ogni partita al Menti io mi ricordo che con la mia squadra andai a giocare all'antistadio del Menti io giocavo all'LS era schiavone al tempo facciamo un amichevole contro il Vicenza perdemo 13 a 1 13 a 2 non ricordo io giocavo in porta però ero preoccupato però ero preoccupato di andare dentro e vedere il campo da gioco che aveva ancora i teloni si giocava contro l'Udinese la domenica dopo perché l'emozione dei bambini e loro dovrebbero avere questa roba qua quando vanno in campo capiscono che lì sugli spalti ci sono tifosi che hanno veramente gli danno una carica e deve essere così perché la partita è una partita di cartello Mantua è una città assolutamente rispettabile e si sta meritando questo primo posto in campionato e quindi è una partita che a Vicenza deve assolutamente giocare tra l'altro non è che c'è solo l'aspetto emotivo la reazione eccetera dal punto di vista tecnico affrontiamo la più forte di tutte quindi ci misuriamo quindi se fai anche una partita importante tu contro quella lì che sta ammazzando il campionato insomma cambia tutto dalla parte nostra avere 12 punti poi averli a 9 cambierà poco che prenderà tanto però cambia anche il nostro atteggiamento le nostre condizioni però io io vado allo stadio cioè se io fossi sicuro che Vicenza arrivasse quarto terzo quinto non vado neanche a vedere le partite io vado lì perché devo vedere il Vicenza vincere deve vincere in qualche modo e col Mantua è una partita secondo me decisiva possiamo riaprire tante cose con una vittoria comunque la rosa più importante quella del Vicenza facciamolo vedere intanto col Mantua poi questo filotto noi continuiamo a chiamarlo ma arriverà anche a un certo momento la possibilità di fare intanto deve esserci Vittoria la squadra lo deve prima di tutto a se stessa e poi a una città e una provincia che li seguono poi servirà non servirà io ho qualche dubbio purtroppo in ottica primo posto però Vittoria deve essere venerdì per una questione di dignità prima di tutto ci deve essere quella ci fermiamo un attimo poi torniamo risentiamo un altro passaggio delle parole di Renzo Rosso e abbiamo anche il pagellone Emma che scalpita con i suoi messaggi e un aggiornamento del sondaggio fra poco ben tornati a rigorosamente calcio il popolo bianco rosso domani la farà sentire la sua voce a Federico Proia e i suoi compagni a tutto l'Anerossi perché c'è la cena dei club del centro di coordinamento dei club bianco rossi saluto a proposito il presidente Maurizio Salomoni che è a dicembre col suo lavoro è impegnatissimo poi appunto sta organizzando la serata di domani Federico tu tutta la squadra mister direttore domani riceverete un sacco di pacche sulle spalle di incitamento qualche parola ve la prenderete preparati sì è come giusto che sia noi dobbiamo dobbiamo essere concentrati alla partita di venerdì noi abbiamo quell'obiettivo in testa in questi giorni e deve essere quello deve essere una partita per noi troppo importante per noi per i tifosi per il momento per tutto quindi è l'ora di dimostrare quindi dobbiamo farlo e basta come dicevo prima siamo così proiettati a pensare ai problemi caratteriali mentali a questo male oscuro che c'è che ci dimentichiamo che giochiamo contro la capolista forse voi non ve lo dimenticate lo sapete bene però è un test importante quello di venerdì sì assolutamente dalla misura del vostro valore anche assolutamente infatti è un ulteriore se non il passo più importante che dobbiamo fare dovremo far parlare il campo e poi da lì vedremo dove arrivare però è troppo importante per non centrare l'obiettivo Federico una domanda per te da casa visto che dovete scontrarvi con il Mantua il Mantua va aggredito va lasciato fare la partita faccio notare dice il nostro telespettatore che questi giocano soprattutto di contropiede spesso sono letali cosa che purtroppo non riesce a fare il Vicenza si è firmato? no purtroppo non si è firmato Federico sinceramente giochiamo in casa giochiamo dobbiamo giocare per vincere ovvio che prepareremo la partita in questa settimana in questi giorni per metterli in difficoltà però è ovvio che in questo momento dobbiamo pensare più alla nostra crescita perché se ci controentriamo troppo sugli altri in questo momento possiamo inceppare in quel minuto in cui 30 secondi che ci hanno fregato con la partita scorsa sono d'accordo con te andiamo a sentire di nuovo Alenzo Rosso parlavo anche l'altro giorno con il mister della Juve mi diceva Renzo quando ci sono questi momenti qua dovete chiudervi stare tranquilli isolarvi e lavorare a testa bassa quindi quello che stiamo facendo e secondo me piano piano spero ne riusciamo perché la squadra è forte il mister è forte la società è una bella società direi al di là della famiglia che è nostra abbiamo anche il gruppo di soci che sono tutti quanti interessati coinvolti presenti cioè siamo tutti innamorati del Vicenza quindi lavoriamo per il meglio di questa città e speriamo che sia l'anno buono che riusciamo a fare questo salto ok la mettiamo la parola fine ritrovarsi e lo dice anche Allegri che insomma di come si gestisce un gruppo qualcosina ne sa vedi che li cita i soci infatti mi sei subito venuto in mente Giancarlo è una cosa che secondo me va tenuta d'occhio a proposito di Giancarlo Tamiozzo andiamo al pagellone andiamo a vedere un po' di voti perché li abbiamo anticipati poi analizzando anche le azioni da gol però velocemente volevo vedere un attimo dove abbiamo puntato credo partiremo proprio dal portiere la confente eccoci qua 5 colpevole ma appunto i ma che si facevano osservare prima c'è una corresponsabilità collettiva in quello che ha fatto il Vicenza nella fase difensiva di Novara Iardi anche prima l'avevamo un po' anticipato questo brutto finale sopra le righe la mancata chiusura sul gol e quella munizione assolutamente evitabile Greco ancora una volta da prova di tuttidità è partito come quinto nel 3-5-2 poi ha finito da terzino sinistro buona prova Ferrari io ho già detto varie volte per me Ferrari deve giocare sempre gol assist in questa squadra ci deve stare Ferrari e chiudiamo col mister e Diana non riesce a trasmettere qualcosa alla squadra e evidentemente c'è anche qualcosa che manca a lui se non certi concetti non passano lui dice a fine partita non abbiamo la fame di chi deve lottare per non retrocedere ho capito però anche tu devi trasferire questa dimensione questo sentimento questa volontà questa ferocia evidentemente se il messaggio non passa non è che sono solo gli interlocutori a non capire se il messaggio non passa non prendetevela con Emma ma io sto vedendo la nostra povera Emma è sommersa oggi sono oberata di lavoro ha cercato di accontentare tutti ne vuoi sentire un po' si assolutamente andiamo allora professionisti che predicano dobbiamo impegnarci di più due squadre che nemmeno la più blasonata squadra di serie C può vantare e questi sono i risultati altra domanda per gli ospiti a gennaio cosa comprare nel mercato di riparazione abbiamo detto prima quello che troviamo Daniele Fortunato allenatore dell'Ane ecco Lele ti vogliono in panchina ti vogliono male una vitaccia stanno già andando non tanto bene non voglio peggiorare le situazioni e poi qualcuno gufa sulla partita di venerdì venerdì perderemo con gol di Giacomelli il karma non mente ok diciamolo subito che così non giocherà neanche probabilmente è vero Giancarlo non so però non è informissimo un aspetto di fascite qualcosa di non sta molto bene è un po' di domenica che è in panchina non entra neanche pochi minuti infatti ho tenuto d'occhio anche io i tabellini ho visto che non entra più deve avere dei problemi sì sì no non sta bene qualcosa come una fascite ma meno intensa per fortuna l'allenatore del Mantua è un po' un allenatore molto dobbiamo stare attenti a mettere quando quando Diana parla di che bisogna avere più cattiverie però bisogna mettere i giocatori che hanno questa cattiverie fammi la classifica dei cattivi non lo so è chiaro i difensori è chiaro che se noi mettiamo a centrocampo Proia Ronaldo e Gimenez tanta qualità tantissima tanta qualità per l'amore del cielo non sto parlando che non sono giocatori di valori in tutti insieme secondo me col Mantua faremo tanta fatica il Mantua è molto aggressivo Possanzini ha un gioco tipo la De Zerbi molto offensivo molto con un pressing molto alto e quindi dobbiamo essere bravi di uscire a pallapiede e avere gente gente tosta che corre ecco però lo ripeto quando io parlo dico questi nomi non sto parlando che non sono buoni i giocatori però facciamo fatica facciamo fatica perché alla lunga questa squadra qui paga paga in qualche modo paga c'è attenzione c'è attenzione ma pianino pianino scema e paghiamo come sempre ecco secondo me una possibile miglioria di mercato sarebbe un centrocampista di quantità da corsa di combattimento potrebbe essere utile questa squadra poi trovarlo non è facile però abbiamo centrocampisti totalmente adesso qui parliamo di centrocampo sembra colpelle del centrocampista però Ronaldo non è Rossi Rossi non è Cavion Cavion non è Gimenez Gimenez non è abbiamo una totale diversità di qualsiasi cambio che fai metti un giocatore diverso da quel punto di vista lì e quindi non è non è facile però è un giocatore come dici te di posizione che potrebbe essere ce l'abbiamo anche potrebbe essere Rossi però magari un po' più giovane un po' più dinamico Federico come sta Fausto a proposito è un momento difficilissimo il papà si è tornato sta non al meglio dai però è tornato con noi in questi giorni cercheremo di aiutarlo a superare questo momento fisicamente invece perché aveva avuto anche qualche no sta abbastanza bene ok lo salutiamo ovviamente molto caramente allora Emma venerdì c'è la partita dell'Ane col Mantua ore 17 al mente esatto ma a partire dalle ore 15 su Tivua Vicenza c'è la maratona televisiva benefica insieme per la vita 2023 se volete donare ovviamente potete telefonare durante la diretta numero 0444 966274 tutto quello che devolverete alla nostra rete andrà in beneficenza ad alcune associazioni di volontariato vicentine guarda c'è proprio il QR code a fianco a te e lo inquadrate e lì potete già cominciare a fare le donazioni dunque il sondaggio vediamo se c'è un risultato finale andiamo a vedere aggiornamento rivoluzione di mercato 48 playoff con questa squadra 52 poi se questa squadra fa anche meglio dei playoff siamo solo che contenti però insomma è abbastanza spaccato 48-52 significa davvero che ci sono due correnti di pensiero praticamente paritarie Don Federico una parola buona per chiudere la puntata una parola buona penso che sia importante mantenere la fiducia si avvicina il tempo di Natale regali agli altri ne abbiamo già fatti in abbondanza adesso cerchiamo di andare in cerca cerchiamo di andare in cerca che siano altri a fare qualche regalone a noi che sicuramente non lo buttiamo via penso ecco direi direi questo insomma ma sempre rimanendo rimanendo fiduciosi è vero che meno 12 segnava il grafico però piano piano arriva anche la primavera quindi le temperature da meno 12 dovrebbero piano piano andare verso il caldo e speriamo che anche per noi valga questa regola grazie Don Federico della tua simpatia come al solito del sorriso e della serenità che ci porti davvero grazie il sacrificio della prima d'avvento l'abbiamo già fatto adesso cominciamo a pensare ai regali Federico grazie Federico Proia grazie a Matteo Celebron grazie a voi dell'invito a nostro relle fortunato grazie a voi come sempre Daniele grazie Giancarlo grazie a voi ricordo rapidamente gli appuntamenti online da mezzanotte di oggi la gazzarra per non prendersi troppo sul serio e poi giovedì alle 18.30 l'approfondimento certo con il solo calcio grazie a tutti voi Emma noi ci vediamo lunedì ci vediamo lunedì dopo lo scontro con il Mantua sperando di aprire un bel regalo di Natale in anticipo da parte della nostra squadra per cui a lunedì con la dita concerte ciao a tutti grazie di essere stati con noi buona serata Fax dal 1966 fabbrica artigiana di coppe trofei medaglie e tutto quello che serve per la premiazione Fax Cresole di Caldogno Ferlat Acciai oltre 70 tipi di acciaio nei diversi formati acciai da costruzione speciali utensili inossidabili responsabili di zona Pierluca Padovanne e Antonio Perini Inplast il tuo nuovo partner nell'imballaggio industriale con packaging standard e personalizzato Inplast soluzioni per la casa feste eventi e tante idee regalo Inplast Arsignano Vicenza